Dal 16 al 24 giugno arriva il grande tennis all'Aquila, un altro grande evento per il capoluogo di regione. Il circolo tennis dell'Aquila, il più antico d'Abruzzo tra l'altro, ospiterà un challenger maschile da 50.000 dollari di Montepremi, un torneo che tra l'altro fa tappa per la prima volta all'Aquila. Ha aderito alla manifestazione anche l'ex top 50 Davisman Paolo Lorenzi, attualmente intorno alla settantesima posizione nel ranking mondiale. Si daranno battaglie a tennisti, infatti tra i top 100 del ranking mondiale e molti italiani, tra l'altro, di ottimo livello. L'Aquila in passato ha già ospitato eventi molto importanti del tennis, ma per questo si tratta della prima volta in assoluto. Il circolo tennis ha acquisito i diritti della tappa tennistica internazionale ed è riuscito a portare all'Aquila questo evento molto prestigioso. Importante il sostegno della regione Abruzzo del Comune dell'Aquila e di tutti gli sponsor più importanti legati al tennis. Nel circolo tennis aquilano Peppe Verna è già partita la macchina organizzativa e fervono i preparativi. Del resto il circolo, già iniziato da diversi anni sotto la guida di Ezio Reinaldi, un'operazione di rilancio e marketing molto importante. La manifestazione impegna un budget di circa 150.000 euro, di cui il carico viene ripartito tra la MEF, il circolo tennis e gli enti pubblici. Il 16 giugno, la data di inizio del torneo, coinciderà tra l'altro con la notte bianca dello sport dell'Aquila che sta organizzando l'assessore allo sport Alessandro Piccinini.